Domani invitiamo tutta la cittadinanza a venire ad ascoltare questi momenti importanti in cui raccontiamo il dramma che sta vivendo in Congo. 10 milioni di vittime negli ultimi 26 anni a causa della nostra tecnologia. C'è un minerale importante, coltan, ma anche il cobalto, che vengono estratti dall'est del Congo. E questo costituisce, questo viene fatto con violazione dei diritti umani. Ma al di là di prendere coscienza, perché venire? Venire perché dobbiamo sapere che dietro al nostro telefono, dietro alla nostra macchina elettrica, c'è la vita di una persona. È importante sapere, avere la consapevolezza, perché soltanto così possiamo cambiare il mondo insieme. Intanto penso che dovremmo evitare di comprare un telefono ogni sei mesi. Questa è una cosa importantissima. Dopodiché noi stiamo lavorando per una tracciabilità vera, dico tracciabilità vera, dei minerali. Che i minerali di conflitto non possano arrivare qua in Europa, o meglio, nei nostri dispositivi elettronici. Però domani ne parliamo, venite e magari ci confrontiamo anche su questo. Grazie. Grazie.